Il responsabile e il dirigente del Servizio Politiche Sociali del Comune di Lucera comunicano che è stato reso noto l'avviso pubblico per il ritiro dei buoni spesa per sostegno alle famiglie in difficoltà in seguito alla emergenza epidemiologica da Covid-19. La distribuzione dei buoni spesa ai beneficiari dell'elenco B cumulativo avverrà presso la sede municipale in Corso Garibaldi 74, piano terra, nei locali dell'ex biblioteca. Agli ammessi al beneficio saranno consegnati blocchetti da 5 buoni spesa da 10 euro. Per il ritiro dei buoni è necessario che i beneficiari indicati nell'elenco si presentino nella sede comunale muniti di un valido documento di riconoscimento. Agli stessi beneficiari saranno consegnati inoltre anche due buoni per l'acquisto di altri generi di prima necessità, come farmaci e parafarmaci. La prima tornata c'è stata martedì 23 giugno, la seconda ci sarà venerdì 26 giugno dalle 15.30 alle 18.00. Inoltre, coloro che non avranno potuto ritirare i buoni nei tempi previsti saranno contattati dall'ufficio Servizi Sociali Comunali.